L'intelligenza è adattarsi al cambiamento. Dai tornanti di ghiaccio agli sterrati di fuoco. Dalle fughe da sogno alla realtà di cemento. Dalla classe A alla C fino a classe S. Questa è la trazione integrale evoluta di Mercedes-Benz. Quattromatic, il potere di adattarsi in corsa. E con le Limited Edition Quattromatic Force fino al 12% di vantaggio. MercedesBenz.it Mercedes-Benz. The best or nothing.